Abbiamo pregato il servizio d'ordine di regolarizzare un attimo la situazione e vi spiego il perché, perché molta gente si è lamentata che non mi ha potuto sentire suonare per me è molto difficile, e vi prego di ascoltarvi, suonare in condizioni dove la gente mi putta la roba addosso, ha capito? Se voi continuate a buttare la roba addosso io prendo e me ne vado. E non me la porta un cazzo! Siete ancora voi quelli dell'ultima volta? Ancora voi! Io come faccio a suonare in queste condizioni? Io ho bisogno di un servizio d'ordine sul palco! Ho bisogno di Fabrizio assolutamente del servizio d'ordine sul palco, di gente che mi renda tutta questa roba dai pedali, non riesco a distinguere un pedale dall'altro, non riesco a suonare, ho le dita già completamente intrise, di zucchero, di maniglia, di crema alla cioccolata, di palloro, so che Pasqua... Auguri per Pasqua! Chiude la colla!